l'academy è un programma di training intensivo sul campo che è volto a formare figure di sviluppatori software ciao a tutti sono alessandro romanetto mi chiamo luca magliana 20 anni io mi chiamo andrea francesco speziale sono voto francesco ho 26 anni l'idea è quella di insegnare attraverso un percorso teorico gli elementi diciamo base della programmazione agli allievi e poi metterli a lavorare esattamente sul campo per supportare dello sviluppo prodotto di di start up durante l'academy abbiamo affrontato svariati argomenti sullo sviluppo di applicazioni mobile per ios sono venuto qua all'academy perché mi interessa molto la programmazione ios e in generale in ambito mobile avevo bisogno di approfondire oltretutto l'università non mi ha passato le competenze pratiche che avrei voluto ottenere devo dire che mi è stato molto utile sono venuto qui per cercare di capire come veramente si lavora presso un'azienda di programmazione del lato competenze io ho notato che in pochissimo tempo ho imparato quello che in tanti anni ho faticato ad apprendere è proprio un approccio diverso dal momento che non è una vera e propria lezione frontale ma è diciamo interattiva abbiamo fatto molta pratica che nello sviluppo è assolutamente fondamentale con il professore c'è ci sono gli esercizi c'è il coaching ti si segue anche passo passo nella pratica e adesso spero di rimanere comunque sempre nell'ambito della programmazione continuerò a sviluppare app e di sicuro a mettere in pratica tutto quello che ho imparato qua ho intenzione di proseguire su questa strada quindi diventare in un futuro un programmatore per applications sia android sia ios la vita da sviluppatori è una scelta di vita ed è a tutti gli effetti un bel lavoro creativo